di nuovo buongiorno ciclisti ci siamo arrampicati su quest'altra montagna zona lacciana molto dura per chi la conosce sa cosa voglio dire guardate giù in fondo ci sono cipressi paesaggio tipicamente collinare ma adesso vi faccio vedere una cosa molto molto bella però dovete aspettare qualche minuto e rimanete sintonizzati ciao ciao